Non limitarsi a commemorare la passione del Signore, ma entrare nel mistero. È l'atteggiamento con il quale Papa Francesco, l'udienza generale, invita a vivere il triduo pasquale, il culmine della nostra vita cristiana. Soffermandosi sul Giovedì Santo, esorta a lavarci dal peccato, a metterci al servizio di Gesù e degli altri. Il Venerdì Santo è il momento dell'adorazione della croce, quando la più grande iniquità si trasforma in amore. Sono tanti testimoni di quel raggio di amore perfetto, pieno e incontaminato, i martiri di questo tempo che offrono la loro vita per la fede. E tra di loro c'è Don Andrea Santoro, ucciso in Turchia. Nel sabato santo, ricorda il Papa, la Chiesa si identifica con Maria, prima e perfetta credente. È il tempo del riposo che precede la risurrezione. Dal buio più profondo, la pietra del dolore viene ribaltata, facendo entrare la speranza. La nostra vita non finisce davanti alla pietra di un sepolcro. La nostra vita va oltre, con la speranza al Cristo che è risorto, proprio di quel sepolcro. Come cristiani siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino, che sanno scorgere i segni del risorto, come hanno fatto le donne e i discepoli accorsi al sepolcro all'alba del primo giorno della settimana. Nei saluti ai pellegrini polacchi e italiani, Papa Francesco ha ricordato i dieci anni dalla morte di San Giovanni Paolo II, il 2 aprile 2005, testimone di Cristo sofferente, ha detto, morto e risorto.